Maria Albanese, donna siciliana 2017 per limpegno civile e letterario Vant create site? Fint free word prestemesa and plugins. È una grande emozione ricevere un prestigioso riconoscimento per il mio impegno sociale antimafia e per la mia scrittura È stato bello ripercorrere un pezzo della mia vita, sarà bello continuare a dare un contributo a questa terra complessa e assieme bellissima Dedico questo premio alle donne e agli uomini che ancora gridano giustizia e che hanno donato la loro vita. La scrittura, la narrazione può essere utile e io continuerò in questa direzione Queste le parole della scrittrice e insegnante di filosofia Maria Albanese, che ieri ha ricevuto il premio Donna Siciliana 2017 per limpegno civile e letterario Maria Albanese è, infatti, fra le donne che ieri, domenica 2 luglio, nell'anfiteatro Falcone Borsellino del comune di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, giunto alla sua sesta edizione Il premio, ideato nel marzo 2012 dall'Associazione Catanese Comunicazione Globale, ha avuto il patrocinio del comune di Zafferana e della presidenza della regione siciliana Assessore alla cultura del comune di Alimena, da anni impegnata nei movimenti antimafia e nella divulgazione della cultura della legalità, ha al suo attivo diverse pubblicazioni Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps? Grazie a tutti!